buongiorno allora siamo arrivati a questa parte terza dopo le due parti iniziali che come abbiamo detto erano un po forse come passatemi la battuta battuta un po ansiogene no perché stabilivano tutte le varie regole che bisogna seguire per rispettare i diritti che la legge prevede a tutela degli autori a tutela della loro delle loro creazioni però come avevo detto saremmo poi arrivati ad una parte un po più che ci dà un po più di respiro possiamo possiamo forse dire così perché pian piano iniziamo a vedere che la legge ha già previsto una serie di spazi d'azione di di margini d'azione per gli utilizzatori e questa parte 3 l'ho intitolata il pubblico dominio fair use e liberi utilizzazioni e per riorientarci riprendo questo questo schema che avevo già mostrato in una delle parti precedenti che è un po la mappa orientativa della nostra di tutto il nostro percorso e oggi passiamo diciamo nel lato azzurro nel lato blu però dobbiamo ancora concludere bene la parte sul pubblico dominio nel senso che la volta scorsa abbiamo visto nelle due parti iniziali le regole quindi il tutto sottocopied copyright closed by default e il fatto che abbiamo accennato che il diritto d'autore il copyright a un certo punto scade finisce abbiamo fatto un approfondimento sul sulla tutela delle immagini che in effetti sottostanno tutta delle regole un po un po sestante un po particolari ma adesso vediamo quali sono i margini in cui ci si può muovere allora il pubblico dominio e le eccezioni al diritto d'autore anche dette nel vecchio mondo le libere utilizzazioni vi confermate vero che siamo arrivati giusto per siamo arrivati alla parte dobbiamo iniziare a parlare del pubblico dominio quindi pubblico dominio nessun diritto riservato utilizzo libero senza condizioni questa è un po la versione diciamo semplificata del concetto di pubblico dominio siamo in una in una fase in cui il diritto d'autore è scaduto oppure non c'è per altri motivi che adesso vi mostro e quindi nessun diritto riservato l'utilizzo è libero completamente senza condizioni non devo chiedere nulla a nessuno salvo ricordarci che ci sono i famosi diritti morali d'autore vi ricordate che ci sono dei diritti che non scadono mai non non possono essere ceduti quindi quelli davvero non come dire non si può considerarli in pubblico dominio nel senso che le opere che sottostano dei diritti morali non possono davvero essere considerate libere completamente da vincoli perché c'è sempre un autore o un suo erede che potrebbe in teoria esercitare uno di quei quattro diritti di quei quattro casi in cui c'è il diritto morale in cui scatta una questione reputazionale morale però abbiamo visto che sono situazioni non così ampie a volte sono abbastanza limitate e quindi vediamo di preciso cosa si intende quando un'opera è in pubblico dominio cioè è completamente fuori dal campo d'azione del diritto d'autore negli esempi che avevo fatto erano abbiamo quasi sempre parlato del b cioè quando scadono tutti i diritti no vi ricordate che abbiamo parlato della musica classica che spesso è sottoposta a quell'equivoco fa scattare quello equivoco del diciamo della caduta in pubblico dominio dal punto di vista dei diritti d'autore ma poi ci si dimentica che quasi sempre se parliamo di musica registrata di musica incisa su un supporto ci sono i diritti sia del produttore discografico che si è occupato dell'incisione sia degli artisti interpreti esecutori che cantano e suonano nella nell'incisione ergo abbiamo già spiegato quanto non sia sempre facile da definire perché io devo andare davvero a ricostruire tutta la catena di tutti i diritti che entrano in gioco ad essere certo che siano scaduti tutti ed è un problema che soprattutto le biblioteche mi fanno presente spesso quando faccio attività di consulenza perché ad esempio le biblioteche vogliono organizzare una manifestazione oppure mettere online delle immagini perché hanno in archivio una raccolta di fotografie anche di un certo pregio ma non sanno bene chi sono i soggetti ritratti non sanno bene se il fotografo è morto più di 70 anni perché non era particolarmente famoso e quindi non è sempre facile come gli esempi che abbiamo fatto non so john lennon por mccartney oppure gabriele d'annunzio grazia dell'edda carducci vado su wikipedia no cerco la voce di grazia dell'edda e vado a vedere che in effetti è morta da più di 70 anni ok e quindi sono tranquillo sui suoi testi per quanto riguarda opere un po più complesse che prevedono l'intervento di più soggetti no pensate a un'opera cinematografica in cui gli autori sono il regista l'autore del soggetto l'autore della sceneggiatura l'autore delle musiche delle musiche originali che sono almeno quattro gli autori di un'opera cinematografica più il produttore il produttore cinematografico gli artisti interpreti esecutori sapere che sono scaduti tutti i diritti davvero esserne certi non è poi cosa così semplice c'è anche una situazione patologica per cui a volte c'è qualcuno che cerca di accampare diritti che in realtà sarebbero scaduti quindi si entra in una situazione per cui bisogna lottare con gli avvocati lottare davanti a un giudice per definire se un'opera candute pubblico dominio è il caso del del diario di anna frank che lo vedete lì in mezzo perché cos'è successo nel 2000 e nel 2016 sì perché anna frank è morta nel nel come come è chiaro no basta sapere basta conoscere la storia di anna frank ed è palese che sia morta più o meno nel periodo della guerra quindi prima del 45 lei è morta precisamente nel 1945 e quindi si è pensato che il diario di anna frank che fosse caduto finalmente in pubblico dominio il primo gennaio del 2016 la data in cui sono passati 70 anni solari perché come avevo detto devono essere 70 anni interi solari quindi si passa al primo gennaio dell'anno successivo nei primi giorni del gennaio del 2016 alcune associazioni diciamo di divulgazione e sensibilizzazione sul tema della shoah avevano diffuso il diario di anna frank online la versione in lingua originale ovviamente perché le traduzioni hanno i diritti dei traduttori che quindi anche lì creano uno strato di diritti in più che va diciamo verificato e va considerato però nel caso del testo originale si è pensato che appunto finalmente nel 2016 fosse di pubblico di libero utilizzo è forse sì forse no perché poi gli avvocati della fondazione frank hanno iniziato a inviare lettere di diffida a coloro che stavano diffondendo il testo sostenendo che secondo loro il diario di anna frank non era accaduto davvero in pubblico dominio e vi lascio pensare perché come mai cosa qual era il cavillo a cui questi avvocati si stavano aggrappando il cavillo era che secondo la loro visione il diario di anna frank che noi conosciamo in forma narrativa non è il vero diario originale di anna frank ma è una versione rielaborata da parte di otto frank il padre di anna e questo crea un problema nel senso che essendoci un intervento creativo di rielaborazione otto frank è coautore del libro o quantomeno cotitolare di diritti e quindi i 70 anni della morte non devono passare dalla morte di anna frank ma la morte di entrambi di anna frank e di otto frank il quale è morto negli anni 70 quindi è morto un bel po' dopo e quindi secondo queste lettere di diffida il testo non andava utilizzato non andava diffuso la cosa è ancora diciamo passibile di interpretazione perché finché non c'è quando si credono queste situazioni di difficile interpretazione per cui uno dice a e gli altri dicono b finché non c'è la decisione di un giudice è una decisione definitiva tra l'altro siamo un po nel thriller però nel frattempo se uno non ha voglia di difendersi con gli avvocati di farsi arrivare le lettere di diffida le ingiunzioni questioni spiacevoli che magari possono comportare appunto spese legali anche se poi hai ragione però nel frattempo devi pagare allora molta gente si astiene e quindi alla fine la si dà vinta al titolare di diritti che sta cercando di accampare più diritti di quelli che diciamo realmente potrebbe potrebbe accampare non sto dicendo che sono nel torto e attenzione non davvero la situazione è un po è un po scivolosa se leggete un po gli articoli che erano usciti in quel periodo su questo tema insomma si sostiene alcuni hanno fatto notare che l'intervento di otto frank sia davvero minimo che non ci sia un'attività davvero creativa e che quindi questa sia un po una un pretesto per allungare i diritti su un'opera che effettivamente ancora oggi genera un sacco di introiti a livello di diritti pensate alle non solo le opere editoriali ma anche a i documentari le tutte le opere derivate quindi i film le derivazioni teatrali le opere a fumetti le opere in cartone animati che parlano del diario di anna frank se cade in pubblico dominio ovviamente non avrebbero più non genererebbero più diritti vedremo nel senso che se qualcuno di queste associazioni se qualcuno di queste associazioni ha voglia di andare allo scontro di fronte al giudice vedremo se davvero ha ragione la fondazione franco ha ragione hanno ragione gli utilizzatori però ecco questo è un esempio abbastanza evidente per dimostrare la complessità dell'argomento quindi anche questa parte questo punto b che sembra quello più semplice di questi in realtà è soggetto a varie interpretazioni vabbè intanto vediamo gli altri due il punto il punto c vi anticipo che lo rivedremo più avanti però intanto il punto a io lo chiamo public domain by law perché è un pubblico dominio per legge ovvero è la legge espressamente a stabilire che un'opera in pubblico dominio che un tipo che una serie di categorie di opere non ricadono sotto il diritto d'autore fin dall'inizio e quindi non c'è mai stato un diritto d'autore in italia non abbiamo allora negli stati uniti hanno una norma molto più ampia che dice che sostanzialmente tutto ciò che è prodotto da un dipendente del governo federale nell'esercizio delle sue mansioni diventa in pubblico dominio fin dall'inizio diventa di pubblico dominio fin dall'inizio il che è interessante perché vuol dire che un sacco di report di fotografie video fatti che ne so da enti come la nasa come la cia l'fbi la casa bianca in sé le fotografie ufficiali delle tutte le roba lì anche se c'è un'attività di fotografi di videomaker importanti di autori importanti di ricercatori quindi pensate a quanta ricerca c'è dietro non so la nasa cosa del genere va direttamente in pubblico dominio e lo trovate se aprite uno di questi siti ufficiali del governo federale vedrete che c'è scritto c'è proprio una nota i contenuti sono fuori dal copyright per l'articolo x del codice sul copyright americano che li esclude lo pubblico dominio non cadete nell'equivoco però che sia tutta la produzione pubblica della pubblica amministrazione americana non è così facile solo i dipendenti del governo federale ok quindi l'esempio più classico non so il fotografo ufficiale della casa bianca che fa le fotografie o i video dell'insediamento del nuovo presidente ecco in quel caso lì l'opera va direttamente in pubblico dominio noi abbiamo una versione più ristretta di questa di questa norma di questo principio noi abbiamo l'articolo 5 che dice ve lo posso dire a memoria praticamente perché è molto breve dice che siamo qua così lo evidenzio dice che sono fuori dall'applicazione della legge sul diritto d'autore i testi degli atti ufficiali dello stato delle pubbliche amministrazioni vuol dire che rimangono fuori solo le opere testuali cioè i testi degli atti ufficiali e poi dobbiamo capire che cosa si intende per atto ufficiale di una pubblica amministrazione allora di fronte dei dipendenti pubblici non credo di dover spendere molte parole su questo argomento no c'è chi lavora nella biblioteca pubblica ha fatto un concorso tendenzialmente conosce un po come funziona la la macchina burocratica amministrativa italiana e sa che cos'è un atto ufficiale quindi più o meno un tassico esempio la delibera del sindaco che chiude le scuole perché c'è la neve la che ne so il report annuale che fa la protezione civile ecco per per problemi sui terremoti non lo so tutto ciò che è atto ufficiale cioè tutto ciò che è un atto che quella pubblica amministrazione deve necessariamente approvare perché fa parte delle sue mi della sua missione istituzionale quindi non si può non è una sua scelta creativa non c'è un'attività di strategica particolare la deve fare perché è un'attività ufficiale pensate ai test delle sentenze che è un altro esempio abbastanza noto di questa di questa forma di pubblico dominio noi avvocati siamo abituati a utilizzare testi e sentenze per fare la nostra attività sia che sia diciamo di consulenza di attività quindi verso i clienti o anche attività informativa divulgativa io lo faccio spesso cioè io ho un blog faccio articoli divulgativi o scientifici scrivo libri e a volte devo andare a prelevare pezzi di sentenze perché dicono cose interessanti dicono fanno capire come il giudice ha finalmente chiarito una questione che era in sospesa da tempo e via dicendo ecco che io posso prendere il testo della sentenza senza dover chiedere il permesso al giudice o al tribunale o al cancelliere che l'hanno che l'hanno emessa ok perché se ci fate caso quando aprite un testo di una sentenza viene emessa in nome del popolo italiano quindi è uno dei massimi esempi della come dire espressione del potere giudiziario di uno dei poteri pubblici più essenziali di uno stato democratico e quindi quelli sono atti ufficiali io non devo chiedere il permesso a nessuno passiamo poi al caso c che è quando il titolare dichiara di rinunciare all'esercizio dei suoi diritti io lo chiamo public domain artificiale passatemi il termine però è artificiale perché perché in realtà ci sarebbero ancora dei diritti però l'autore o il titolare dei diritti attraverso una dichiarazione pubblica promette di non esercitarli più e quindi è come se fosse morto da più di 70 anni cioè come se allora paradossalmente io vi mostrassi queste slide e dicessi le potete utilizzare perché io sono morto più di 70 anni quindi state tranquilli come se io utilizzate come se io fossi già morto da più di 70 anni e lo si fa con il cc0 cioè cc0 è una di queste dichiarazioni in realtà si uno se la può scrivere da solo se è capace di farlo come con le licenze c'è una richiesta fatemi la voce che è meglio così non leggo si chiedevo se questo è il caso ad esempio dei libri di gaming che si possono scaricare arrivo allora cc sta effettivamente per creative commons le i libri allora devo allora i libri di gaming sono tanti alcuni sono usciti se ricordo bene con licenza creative commons alcuni in effetti con un pubblico dominio devo devo dopo approfondisco però dopo lo vedremo bene in alcuni casi il titolare dei diritti dice che rinuncia completamente ai diritti e quindi di fatto fa cadere in pubblico dominio l'opera che è quello che stiamo vedendo ora in altri casi il titolare dei diritti può rilasciare l'opera con una licenza libera con una licenza open che è una versione intermedia nel senso che non è un pubblico dominio il titolare di diritti rimane titolare dei diritti non rinuncia ma comunica agli utilizzatori che può fare che se ne possono fare usi liberi lo vedremo perché tornando al nostro slide precedente praticamente è questo pezzo qua no noi stiamo parlando di questo del pubblico dominio di quando proprio davvero viene meno diritto d'autore il copyright con la c con la c di copyright barrata diverso è il caso vedete della libero utilizzo stabilito al titolare dei diritti quindi dopo ci arriviamo però sì in effetti come vedete cc è lo stesso logo perché perché nel cc0 effettivamente cioè il cc0 effettivamente è uno di questi strumenti realizzati da creative commons come vi dicevo prima uno solo può anche scrivere da solo come anche le licenze open uno ha il cugino avvocato esperto di proprietà intellettuale si fa scrivere una licenza open che rilascia alcuni usi liberi della sua opera però creative commons mette a disposizione liberamente le sue opere e quindi le scusate le sue licenze in modo tale che gli utilizzatori che non hanno questa esperienza non hanno competenze giuridiche possono prelevare queste queste licenze questi queste dichiarazioni pubblico dominio in questo caso e applicare le loro opere questo meccanismo lo capiremo meglio dopo però ecco questo è un terzo caso in cui un'opera può essere ritrovata in pubblico dominio il cc0 viene usato ad esempio viene suggerito e consigliato quando si parla di open data di dati pubblici open di dati rilasciati in modalità open non lo so adesso esempi di di se voi andate su sui repository di banche dati pubbliche anche su quella quella governativa c'è una mi sembra data.gov.it se ricordo bene è una sorta di di portale che vi rimanda a tutte le le a tutti i dati pubblici della pubblica amministrazione no e quelli rilasciati in cc0 sono rilasciati nella modalità più libera vuol dire che se ne può fare quello che si vuole ok senza dover neanche riconoscere la fonte originaria comunque ripeto ci torniamo un po dopo adesso era per mettere a fuoco questi tre casi di pubblico dominio è un po' di più